Va cacciato per a tenere il sedere quell'ispettore. Ma come? Ma io la metto. Faccio un'osservazione semplice, è come quando? Quando lo sindaco arriva qualcuno e mi diceva il vigile mi ha fatto la multa, e io in questo momento non posso sapere che cosa ha fatto e che cosa ha valutato il vigile in quell'istante, ma sta al buon senso della persona. Ecco, questa cosa è il buon senso. Ma è molto semplice, ti trovi l'incallito parcheggiatore abusivo è un conto. Ti trovi l'anziano che magari ha bisogno anche di essere consigliato e dice guardi che forse se parcheggi un po' più dietro è nelle righe lo fai circolare, ma prendere e dare una multa perché è scritto fagiolini siciliani anziché italiani, ma io darei un premio a color torano che ha indicato anche la zona particolare da cui proveniva.